Nel mio lavoro mi capita spesso di avvicinare degli autori che stanno scrivendo delle sceneggiature, delle storie, dei racconti di qualunque tipo e che hanno bisogno di un periodo di tutoraggio, di coaching per riuscire ad arrivare alla fine della loro idea e riuscire poi a presentarla da qualche parte. In questo momento storico mi viene di parlare di questo aspetto del mio lavoro perché ci sono alcune domande che mi stanno arrivando più intensamente del solito. È come se fosse aumentata una sorta di incertezza, di fragilità nella capacità di scrittura e di produzione di un'idea. E voglio passare insieme a voi alcune di queste domande che mi arrivano, quelle più frequenti, proprio perché secondo me possono essere segno di qualche cosa di più ampio che non lo stretto ambito di cui mi occupo io, che è quello della costruzione delle storie o dell'accompagnamento degli attori all'interno dei film e dei casting. La prima domanda che capita più frequentemente è perché non riesco a scrivere? Cioè perché sono bloccato, perché non riesco a produrre una storia? Allora io di fronte a questo primo tema, diciamo, ho una domanda che contropropongo a chi ho di fronte. E se non riesci a scrivere, che cosa succede? Qual è la cosa che ti capita se non riesci a produrre? Perché ho questa grande sensazione, siamo pienissimi di manuali su come si scrive una storia, ma molto meno abbiamo lavorato su come tu, che sei esattamente tu in questo momento della tua vita, puoi scrivere una storia. Allora sai, il manuale a volte la fa facile, ma tu sei dentro ai tuoi problemi, sei dentro al tuo percorso, dentro al tipo specifico di situazione. Allora a volte giace sotto il nostro processo creativo una paura. O mamma se non riesco a produrla, mamma se non riesco a scrivere, diranno di me? Mi abbandoneranno? Perderanno la stima? Andrò a smentire delle promesse, delle premesse? Che cosa c'è in gioco? L'immagine di me? Cosa c'è in gioco? Il mio stipendio? Un discorso serio, eh? Non è mica un discorso da poco. A volte riuscire a scoperchiare questa pentola. Qual è la paura che sta sotto? Che cosa succede se non succede che scrivi la storia? Può aiutarti a entrare in dialogo con questa situazione e anche un po' a parlare con questa paura. E a volte questa paura contiene persino delle risorse che ti possono aiutare a sbloccare il processo e a scrivere. E questa diciamo che per me è la prima questione. Poi ce n'è una seconda che è da dove proviene l'idea che tu debba scrivere per forza. Ma non perché io lo metta in dubbio, perché magari tu sei bravissimo, anzi probabilmente lo sei, ma perché è importante andare a capire qual è il punto e il luogo in cui questa convinzione dentro di te è nata. Che è verosimilmente, ripeto, del tutto legittima, ma a certe volte è importante andare a verificarla. Quando è nata quest'idea che tu dovessi scrivere per forza? Chi, tra virgolette, te l'ha messa in testa o quando hai permesso che crescesse dentro di te? Che cosa stavi guardando? Perché a volte scopriamo che stavamo guardando un modello, per esempio. Stavamo guardando un'idea di identità. Mi piacerebbe essere un autore. Anche a me piacerebbe essere un autore, ma non è detto che mi piaccia scrivere. E queste due cose sono diverse e non è così semplice a volte scinderle, per cui prova andare indietro a ascoltare te stesso e dire proviamo a ricordarmi. Ti prendi un bel bicchiere di porto o di quello che piace a te e ti dici mi metto lì e cerco di ricordare come questa certezza che io sarei stato un autore è nata in me. Quando è avvenuta questa cosa? Senza nessun giudizio, senza nessuna paura, senza nessuna critica da fare al tuo processo, alla tua identità e al tuo percorso. E l'altra domanda che mi viene, la terza, è... Tu quando pensi perché non riesco a scrivere, riesci anche a completare la frase perché non riesco a scrivere per qualcuno di preciso? Cioè in testa ce l'hai per chi stai scrivendo, a chi ti stai rivolgendo, perché nessuna storia è per tutto il mondo. Nessuna storia è per tutti. Truffaut diceva o un film è per donne o un film è per surfisti, amanti del surf, che era una gag molto divertente. Ma per dire non ci azzecca niente una storia con l'altra e non è detto che tu debba scrivere per l'universo mondo. Chi hai in mente tu? È una domanda più importante di quanto sembri, perché dietro questa domanda c'è un'altra possibile risorsa. Chi ti sta a cuore? Le donne? Gli amanti del surf? E perché ti stanno a cuore? Prova a andare in quella direzione, anziché correre verso la storia, corri verso il tuo amore, quello che senti. O anche verso il tuo bersaglio, eh? Tu vuoi scrivere contro le donne, vuoi scrivere contro gli amanti del surf? Va bene o uguale? Vai in quella direzione e cerca, ma quali sono i materiali dentro di me che hanno acceso così tante cose che io vorrei proprio rivolgermi a loro per amarli, per colpirli, eccetera? E cioè, più che ancora una volta al prodotto storia, al prodotto racconto da portare a un editore che bisogna per forza scapicollarsi o a un produttore, eccetera? Cerca le ragioni dentro di te della motivazione per cui questa cosa sta vivendo. E poi la seconda questione che mi sento ripetere spesso è sono senza idee. La mia prima reazione è ok, e quindi? È così grave che tu sia senza idee? Possiamo provare a sospendere un attimo quest'equazione, sono senza idee, oh mio Dio, e dire sono senza idee e questo è il mio stato in questo momento. E quindi sento un grande vuoto. Questo grande vuoto è per forza da temere? O possiamo provare a esplorarlo? Possiamo provare ad andare dentro con alcune domande che con gli autori con cui lavoro io pongo e a cui loro rispondono. Questo vuoto è esplorabile? È conoscibile? Perché magari la mancanza di idee è soltanto la mancanza dell'idea che volevi tu, ma magari ce ne sono delle altre. E questo però mi porta anche a una seconda domanda. Tu che rapporto hai con lo spazio vuoto che c'è dentro di te? Quando senti di non avere un'idea, che rapporto hai con questa assenza dell'idea? Perché, vedi, quando noi andiamo dentro alla nostra fragilità di autori, è un autore che non ha idea, è una gallina che non riesce a fare l'uovo, diciamo, no? Possiamo andarci in tanti modi. Un modo molto comune quando uno dice perché non riesco a scrivere, non ho idee, è adesso entro dentro di me e prendo un'idea. La tiro fuori come da... la strappo via, me la porto a casa di forza perché è un'idea, la devo avere, accidenti, no? E questo è un modo di entrare dentro di noi depredando, andando a frugare nello spazio interno. Ma frugare è come quando si apre un cassetto al buio e si fruga. Vogliamo una sola cosa, non vogliamo conoscere il cassetto, né tutto quello che c'è, anzi tutto quello che c'è, ci dà un gran fastidio, perché noi stiamo cercando una cosa, no? Tu hai questo rapporto o hai la possibilità di aprire un cassetto e vedere come è fatto questo cassetto, sentire il vuoto di questo cassetto, che cosa ti dice questo spazio dentro, cosa ti dice che non sapevi prima di entrarci. E questo è un atteggiamento completamente diverso. Certo, quando io sono in preda all'ansia, che una roba la devo trovare, non ho tempo e non ho spazio per questo tipo di approccio con il vuoto dentro di me. E poi c'è un'altra questione, che quando tu senti il vuoto, senti angoscia. Allora, l'idea non ce l'hai, ma l'angoscia la senti. La tristezza, la rabbia, l'ansia, mettila come la vuoi. Quella la senti molto. Quando si è depositata dentro di te l'idea che si potesse cominciare a scrivere solo a partire da un'idea precisa, solo a partire da un'idea costituita, solo a partire da un plot già consegnabile a qualcuno. Perché quando io sono nell'angoscia, come quando sono nell'entusiasmo, diamoci anche una chance di essere ogni tanto felici. Io sono, come dire, settato, centrato in un sentire molto forte. Chi ti ha detto che devi cominciare a scrivere, puoi cominciare a scrivere solo quando hai un'idea concreta e non quando sei, per esempio, dentro un mood, dentro un'emozione, dentro un sentimento. Certo che se quel sentimento è tuo nemico e tu cerchi di rimuoverlo trovando quella storia, quel sentimento continuerà a frapporsi tra te e lo scrivere. Prova ad accettarlo, ad abitarlo. Prova a vedere che cosa succede se lo segui. Attenzione, non che storia ti fornisce, se no torni al rapporto malato di prima, che tu vai da te stesso solo per prendere delle cose. Vai a conoscere, vai a incontrare, no? Sul mercato è molto meglio andare con qualcosa da offrire che con qualcosa da chiedere. Offri qualcosa all'angoscia. E cosa posso offrire alla mia angoscia? Mi butto dal balcone? Assolutamente no. Puoi offrirle il tuo tempo. Puoi offrirle questa passeggiata che farai. Falla con la tua angoscia. Ascoltala. Perché dietro l'angoscia c'è qualche cosa che qualcuno dentro di te, qualche voce dentro di te ti sta dicendo. Quella roba lì somiglia già a qualcosa di costruito e di raccontabile. Non è detto, ma magari possiamo provarci, no? Un'altra cosa di fronte alla quale io mi trovo spesso è una crisi durante lo sviluppo delle storie. Non ho costanza. Cioè lo faccio per un po', poi mollo. Non ho costanza, non riesco, lo faccio per un po', poi insomma si stacca. Allora lì io cerco di vedere quali sono le cose che facciamo necessariamente con costanza. Facciamo battere il cuore, non per nostro movimento volontario, ma grazie a Dio lui ci pensa. Se non lo facesse con costanza, con estrema, maniacale costanza, avremmo dei guai seri. Respirare, bere, mangiare, andare di corpo. Questo lo facciamo con costanza, perché se non lo facciamo si muore. Solo quello che è assolutamente necessario merita la nostra costanza assoluta. Allora, quando tu non sei costante, smettila con questi giudizi da maestra di un tempo, perché oggi non è più così, credo, che ti dicono, eh ma il bambino non è costante, molto male, è una cosa... No, aspetta, aspetta a giudicarti così. Se non è costante, qualcosa dentro di te ti sta dicendo, guarda che sì, ma non è questa la roba. Mollala lì. Una voce dentro di te che devi ascoltare ti sta dicendo, molla lì questa roba. Non è, non è così fondamentale, capito? Non è così essenziale. Come respirare, far battere il cuore? Costante è ciò che è necessario. Allora, vuol dire semplicemente che qualcosa ti sta avvisando. Puoi provare a cambiare direzione. Puoi provare a ascoltare cos'altro è necessario, a un livello più profondo. E allora puoi domandarti quale parte di me ha deciso che avrei scritto questa storia. Torna indietro quando ti è venuta quest'idea di questa storia che adesso stai mollando e prova ad analizzare bene che cosa di te ti ha spinto a iniziare a scrivere. Perché magari è un ego, un ego che non va condannato, ma l'ego fa il suo lavoro. L'ego vuole un'affermazione intorno. Il tuo sé vuole una realizzazione di te. Il tuo sé profondo se ne frega del consenso degli altri. Vuole realizzare profondamente ciò che sente che va realizzato. Perché va realizzato? L'ego insegue i festival di letteratura, gli editori, i premi, tutte cose bellissime, ma se tu passi a scrivere per ottenere quelle, e ce ne sono, tantissimi e hanno tantissimo successo. Applausi, applausi. Ma il tuo problema è più centrale, no? Se scopri di non avere costanza è un problema che non si risolve facendo il furbo, si risolve andando in fondo alla questione. Quale parte di te sappi che l'ego non ha costanza e non ha visione sul futuro. Non ha proiezione. L'ego vuole un risultato subito adesso in questo momento. Quindi non costruisce scommettendo. Anche se può dare il suo contributo, può dare il suo ricco contributo. Ma solitamente vuole una ricompensa. Solitamente l'ego è la parte di noi che ci fa dire ma io cosa ci guadagno in questo. Mentre il se è la parte di noi che ci fa dire a qualunque costo. Il l'ego valuta le idee per quello che rendono. Il se le valuta anche per quello che gli costano. E questo è un ribaltamento. Poco furbo, poco commerciale. Ma quando tu vai a prendere le storie che hanno avuto un grande successo, scopri che quella profondità c'era. Allora è una strada libera davanti a te che puoi decidere di prendere da una parte o dall'altra. E la domanda che pongo io è invece ma tu cosa ne sai di te? E non per fare una psicanalisi che non mi compete, non mi piace neanche se devo dire la verità e non mi appartiene come sistema proprio. Ma quando noi scriviamo possiamo farlo da più approcci. Possiamo farlo dalla sicurezza sicumera, di una trama sicura, di avere una grande idea, sappiamo che spacca di brutto e quindi andiamo dritti, no? E perché siamo ben corazzati di fronte alla situazione? Oppure possiamo farla intraprendendo un viaggio verso l'ignoto. Costruire una storia intraprendendo un viaggio verso l'ignoto. L'ignoto che è dentro di noi e l'ignoto che è intorno a noi. E l'ignoto che è nei personaggi che man mano appaiono, per esempio, dentro di noi. O che ci vengono ispirati dalle circostanze. Perché la differenza è che se tu scrivi avendo una trama tu possiedi la storia, scrivi possedendo la storia. Se tu scrivi con un viaggio verso l'ignoto tu scrivi seguendo la storia. E seguire vuol dire farsi condurre, farsi guidare e non sai dove ti porterà e non sai quanto ti costerà e non sai quanto durerà e non sai nemmeno come finirà. Allora lì c'è veramente un rischio. E il rischio però è l'ingrediente base fondamentale dell'avventura. Ti piace come ingrediente l'avventura? La dimensione avventurosa delle storie, anche se sono due anziani che giocano a carte. È proprio lì che devi andare a trovare l'avventura di quella partita a carte. Allora che cosa si nasconde dietro? Dove ti porta il tuo sentire? Dove ti conduce l'idea che avevi? Fatti portare, ma sappi che ci vuole moltissimo fegato. Per questo dico cosa ne sai di te? Perché la storia ti potrebbe portare a dove tu non sai di te, a dove tu non sei sicuro di te stesso. Ti potrebbe portare a delle notizie su di te che tu non ti aspettavi. Se sei pronto a questo viaggio, e ribadisco, non c'entra niente la psicanalisi, guarda i più grandi romanzi, i più grandi racconti. Se sei disponibile da questo viaggio, allora l'avventura si può aprire. Naturalmente ci vuole la tua disponibilità per questo. E anche una tua chiarezza. Non voglio giudicare, perché non sono nessuno, ma poi non ce l'ho proprio dentro, un giudizio per chi lavora in un modo diverso, assolutamente. Tu come usi le storie? Che rapporto hai con le storie? Tu usi le tue storie per andare nel mondo e diventare qualcosa o qualcuno e affermarti? Benissimo, del tutto legittimo. O usi le storie come la meta di un viaggio di conoscenza di te e di conoscenza del mondo che hai intorno. E allora la storia è in sé il punto d'arrivo, qualunque cosa succeda dopo nel mondo? Che la storia venga pubblicata, che non venga pubblicata, che la sceneggiatura venga girata o no? A che livello di profondità vuoi stare? Cosa ne sai di te? Quale partita stai veramente giocando? Perché molto spesso vedo degli autori molto confusi tra momenti di ispirazione e momenti di pura strategia, ma questa strategia è completamente sganciata dal tipo di ispirazione che avevano. La strategia va bene, ma devono entrare, come dire, in armonia. Un'indicazione sommaria che mi sento di dare in questo momento agli autori, un'indicazione non da semplice coach proprio, è abbiate fiducia, ma non tanto fidati di te, la fiducia ci riempie il cuore, eccetera, lo sappiamo. Mamma, in che cosa abbiamo riposto fiducia magari, no? Ma abbi fiducia nella natura, vai fuori a fare una passeggiata e guarda intorno. Tutto quello che vedi intorno, fatto dalla natura, funziona. Funziona maledettamente. Perciò scopri che sei in mezzo a questa natura, ma devi proprio andare e non pensare a niente. Senti che tutto quello che hai intorno a te, alberi, ruscello, eccetera, è tutto finalizzato e tutto armonizzato al funzionamento dell'insieme. E tu sei dentro questa cosa, non fuori da questa cosa. Per questo ti dico, abbi fiducia nel fatto che se una cosa comincia a nascere dentro di te, poi porterà frutto. C'è una premessa molto sbagliata, è una premessa dell'ego davanti alla storia. Adesso scrivo, adesso faccio io, no? E c'è una premessa invece molto più umile, molto più fragile e per questo molto più fondata e più forte sulla lunga distanza, che è adesso faccio in modo che la storia si faccia dentro di me, che la natura scorra dentro di me, che venga costruita dentro di me, che si formi dentro di me una storia attraverso la natura che mi passa dentro, il tempo che scorre nella mia vita, le relazioni personali che mi attraversano. Apri, ammorbidisci, permetti che avvenga dentro di te una storia, certamente con tutta la tua tecnica, con tutta la tua disciplina, con tutto il tuo rigore, ma anche mollando completamente. Da questo punto di vista mi piace citare Peter Brook quando diceva tieniti forte e lasciati andare con dolcezza. Buona scrittura a tutti!